Musica Sarà Villa Gennaioli ad Anghiari ad ospitare per la prima volta il festival dell'autobiografia in programma a partire da venerdì 27 agosto. La struttura, recuperata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Gennaioli e la Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, verrà utilizzata per ospitare iniziative rivolte alla comunità anghiarese. Questo è il primo evento che facciamo in questo spazio recuperato di Villa Gennaioli. La Libera Università dell'Autobiografia, che è l'associazione che fa il festival, ma che durante tutto l'anno fa delle attività ad Anghiari, ci ha chiesto la possibilità di utilizzare lo spazio perché usualmente i loro lavori venivano effettuati all'interno del teatro, ma adesso con le restrizioni del Covid era più utile avere uno spazio allestito all'aperto. Quindi ci hanno chiesto la possibilità di utilizzo e la Banca è stata ben felice di assecondare questa richiesta perché è il primo vero evento pubblico che si fa lì in quello spazio. Il complesso di Villa Gennaioli è stato recentemente recuperato, anche se non integralmente. Ancora dobbiamo fare dei lavori per recuperare dei ruderi di case coloniche che ancora devono essere sistemate. Però la villa è stata interamente ristrutturata, così il giardino che può essere utilizzato e fruito anche all'aperto, come faranno appunto gli utenti della Libera Università. Questo spazio avrà un utilizzo, diciamo così, multiplo per varie cose, per esposizioni, per concerti. L'impegno della Banca anche nel recupero e nel rendere nuovamente fruibile un luogo come Villa Gennaioli testimonia la vicinanza del vostro istituto di credito alla comunità? Sì, naturalmente questo è uno dei segnali dell'importanza di avere una banca locale all'interno dei territori. Sicuramente questo sarebbe stato un luogo abbandonato se la banca non avesse fatto l'accordo per primo con la fondazione Marco Gennaioli Ollus che è la proprietaria di tutta l'area e il partner con il quale noi ci siamo alleati per far tornare a nuova vita questo luogo. E poi secondariamente appunto dicevo con tutto il fatto che questo recupero ci consente di ridare, di rimettere a disposizione o forse di mettere a disposizione perché in realtà il luogo prima era totalmente privato quindi non era fruibile da nessuno, di mettere a disposizione quindi per la comunità questo luogo che ha anche un bel parco, un giardino con delle piante anche particolari insomma se vogliamo anche pianterare per il nostro luogo e quindi di sistemare quest'area appunto per renderla utilizzabile in quanto meno. Questo appunto è un segnale che va nella direzione come la banca fa tante altre cose la banca sostiene iniziative, circa 300 credo che siano iniziative che noi sosteniamo annualmente delle varie associazioni, nell'anno 2020 abbiamo stanziato oltre 290.000 euro per queste iniziative quindi insomma per darle anche una dimensione di quello che è l'importanza diciamo di quello che facciamo per il territorio. L'ultima iniziativa che abbiamo lanciato è quella della mutua, la mutua camminare insieme la mutua appunto è un'associazione diciamo che sarà totalmente separata dalla banca ma di emanazione della banca perché è rivolta ai clienti e ai soci della banca che mettendosi insieme in questa mutua potranno avere dei servizi nel settore sanitario, culturale e diciamo così in generale del sostegno alla famiglia per quello che riguardano le attività sportive in particolare dei giovani ovviamente e le attività appunto culturali e di istruzione che può essere appunto un meccanismo virtuoso per garantire appunto dei costi inferiori sui servizi e anche una controprestazione della mutua che potrà rimborsare parte di questi costi e quindi avere una fruizione proprio data a tutti, la possibilità di dare a tutti di fruire dei servizi diciamo sia sanitari dal punto di vista ovviamente privato che culturali e di istruzione. Grazie a tutti